Ciao a tutti e a tutti e benvenuti in un nuovo video, io sono Meggie, oggi sono da Nuova Bologna e ci sento un attimo l'album giusto, e ci si vede dopo. Comunque andiamo a trovare a Michele. Buon appetito, ma oggi guarda, sempre in là, ok. Ma che sta mangiando? Senti, abbia, abbia il cicolare a tenerlo, come si dice. Sta mangiando la patatica, buon appetito. No, sto scherzando. Ma tienilo il pinato, tienilo il pinato. Devo dire una cosa. Comunque buon appetito, buon pranzo, il carpello e il tuo. Comunque noi c'è stata la patata percicciuta e una margherita e poi ci siamo anche con la patata. Ci vediamo dopo. Allora, siamo qui, non so in che piazza, che piazza è questa? Vabbè, tanto non lo sa neanche lui. Siamo andati in quella chiesa lì. Si vede dietro, più o meno? È gigantesca. Com'era il padrono San Petronio? Sì. Ok, questo è il padrono della chiesa, qui piove sempre. Ho già detto che odio Bologna in pratica. Tutta la giornata che piove, non mi piace questa cosa. Non mi piace il fatto che piove. E adesso dove stiamo andando? Girando, penso. E c'è stato qui, dice che non gli reteneva di fare il vlog a lui. Quindi in questo vlog ci sarà pochissimo, parlerò più io. Non ho capito. Sinceramente è una cosa della chiesa. C'era una specie di, penso, meridiano o un calendario, ma non l'ho capito. Se qualcuno è di Bologna me lo può far sapere se è un meridiano o un calendario, perché a gennaio c'era semplicemente un mese e gli altri erano tutti a doppio. C'era un gennaio che non l'ho visto. Quindi questo. Ci si vede dopo. Ciao. Allora, sono di nuovo a Prato. Questo è il parchetto. Dove, vabbè, quello vicino a casa in pratica. Il più piccolino. E... E' stato una giornata veramente bellissima. A parte tutta l'acqua. Infatti ha piove anche qui, per come vedo. Ho lasciato, cioè, non l'ho lasciato. Perché mi sono portata l'acqua a Bologna. Perché ho iniziato a piovere che stavo qui. E non ho smesso quasi per niente a Bologna. Ho fatto giusto un pochino, pochino, pochino di tempo. Che non ha piovuto, però per il resto... Ha piovuto quasi tutta la giornata. Cioè, è stato tanto praticamente due ore senza piovere in tutto ciò. Però il resto ha piovuto tutta la giornata. Quindi non mi sono goduta tanto a Bologna. Non ho proprio per niente. Non ho proprio il fatto che pioveva. Vabbè, con il fatto che con cui siamo stati in giro, una cosa in altra, ho vloggato veramente pochissimo. E quindi la prossima volta che andrò sicuramente vloggerò un po' in più. Almeno spero. E sono ancora... Cioè, sono ancora cercando di capire che cosa sia quella... Cioè, era un meridiano o un calendario. Cioè, appena l'ho visto ho detto... Wow, il meridiano! Poi mi sono fatto un pochettino e ho detto... Ma questo dovrebbe essere un calendario. Ok. Meridiano o calendario? E poi mi è rimasta una cosa. Mi è rimasta una cosa. Ci hanno girato un film in quella chiesa? Forse sì, non lo so. Mi informerò. Veramente mi informerò. E' questo. Ci vediamo al prossimo video. Ah, e iscrivetevi al canale se vi va. E lasciate un mi piace. Ciao! Ciao! Allora, faccio un piccolo video. A parte che sono in un pochettino, in stanzione. Molto da vedere. Queste cose mi sono arrivati sempre molto in anticipo. A parte il vento, fa il solito più voloso, stranuloso, e diciamo che è leggermente freddo. Sì, ho la felda. E... Non sono mai stata a Bologna, ma la prima volta che ho vato a Bologna, non so cosa mi aspetti a Bologna. Anche se sono andata a B... Trentino, Milano, Cioè, sono stata inter... Ah, sì, sono stata intrettiva. Precisamente a... Il principe della marmolata. Sì, ok. Sono stata cì quella scoperta, però adesso non me ne sono più andata, perché era insostenibile la situazione lì. Cioè, non è proprio fattibile. Diversamente. E' un pochettino. E' un pochettino. Vabbè, l'uva proprio all'ordine del giorno, tra poco. Sono stata a Leccia. Tant'è male di te. Io, per... Cioè, la Leccia è una comodata quasi tutta comoda. Quasi. E' un po' quasi. Vabbè. No, ho fatto perché... Cioè, sto stato abbastanza in giro. La prima volta che vado a Bologna, non è la prima volta che viaggio da sola, però è la prima volta che vado da sola a Bologna. Questa cosa mi piace. Vabbè. Sono stata anche a Prata da sola, in pratica. Sì. Stavo imparando a viaggiare da sola, in pratica. strano ma vero, ancora non fanno un annuncio. Cioè, stavo provando a registrare prima un annuncio ogni due secondi. Quindi, io adesso stacco perché tipo tra 20 minuti arriva il mio tre. Ciao.